La crisi nella chirurgia di Luigi Curto verrà risolta almeno con soluzioni tampone nel giro di breve tempo. Ne è convinto il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL di Salerno, Michele Di Candia, che dopo la sospensione dei ricoveri e delle attività in urgenza nel reparto di chirurgia generale, evidenzia come la macchina burocratica e politica si sia mossa. La richiesta di nuovo personale infatti è arrivata al direttore generale dell'ASL. Il capo dipartimento ha subito avviato una ricerca di disponibilità ad operare anche al curto da parte dei chirurghi in forza sul territorio, dopodiché si procederà con altre iniziative. Di Candia è convinto che arriveranno risposte nel giro di pochi giorni. I primi cittadini e le forze politiche del territorio intanto sono sul chi va là. La settimana scorsa, detto Di Candia, si è riunita alla conferenza dei sindaci presso la comunità montana Vallo di Diano e abbiamo affrontato la questione alla presenza del direttore sanitario Luigi Mandia. Presto uscirà un documento condiviso in cui affermiamo il rispetto del territorio e il diritto all'assistenza. La notizia intanto ha determinato reazioni da più parti, tanto più che le difficoltà intervenute dopo il pensionamento di due medici erano già note da tempo e dunque pienamente annunciate. La sanità territoriale è al collasso nell'indifferenza della politica, ha commentato il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti, che definisce quanto sta accadendo nel Vallo di Diano, un territorio già fortemente penalizzato, un disastro sanitario che si consuma a scapito dell'utenza. Da tempo chiediamo interventi concreti ma le risposte tardano ad arrivare, aggiungono dalla Fialz. Oggi più che mai è necessario che le istituzioni prendano coscienza della gravità del problema e agiscano con rapidità. All'ospedale di Polla la crisi non riguarda solo il reparto di chirurgia, in situazioni simili si trovano anche pediatria, urologia, cardiologia e il servizio di farmacia.